Intanto grazie di averci accolto come sponsor, probabilmente parleremo di un argomento che c'entra il giusto diciamo con quello che fate tutti i giorni, ma ci tenevamo a raccontarvi che cosa fa Copa Alleanza 3.0 sul territorio, su questo territorio, ma prima di presentare devo fare una battuta, ho sentito prima il primo intervento del pomeriggio che si parlava di sesso, poi c'era Francesca che parlava di preservativi, vi annunciamo che Copa Alleanza ha preservativi a marchio, fallo protetto, un buon prodotto se volete utilizzarlo, vanno bene anche per i freelance, ma a parte le battute oggi volevamo raccontarvi di un progetto appunto concreto del consiglio di zona di Ravenna e Cervia, un progetto che, come dire, e per farlo utilizzeremo la metafora del viaggio, tra l'altro qui in sala c'è Biliana che l'anno scorso parlava di Bisanzio, no? E quindi posso permettermi di utilizzare all'interno della metafora viaggio la metafora barca-vela, dobbiamo fare i sostenibili, siamo Copa Alleanza 3.0, ci teniamo molto alla sostenibilità, quindi diciamo che noi siamo una barca-vela, una barca grande perché è tipo un bastimento, nel senso che siamo una cooperativa che conta 22.000 dipendenti, 2.300.000 soci, quindi una cooperativa di grandi dimensioni, presente su nove regioni d'Italia e che ha una base sociale vasta appunto, rappresentata da 58 zone soci e da 1.042 consiglieri. Matteo è il presidente di una di queste 58 zone soci, quindi rappresenta la proprietà diffusa della nostra impresa cooperativa. Dicevo, un viaggio che ha consentito la cooperativa e il Consiglio di zona di raggiungere, diciamo idealmente, l'America per andare ad acquistare un carrello, un carrello particolare, un carrello che si chiama Caroline Skart, che è un carrello che può essere utilizzato per accogliere delle persone disabili con disabilità, quindi una famiglia che ha un figlio con disabilità o un familiare che magari ha problemi anche a muoversi, può venire a fare la spesa all'extracop ESP di Ravenna e utilizzare questo servizio. Speriamo che dopo questa breve presentazione riusciamo a dare anche un'immagine della parola innovare che sia differente rispetto a quella che siete abituati a pensare. Naturalmente detto in questa sala, con molti di voi che lavorano sul web e con la tecnologia, parlare di innovazione è automaticamente immaginabile vicino alla parola tecnologia. Noi invece l'innovazione la immaginiamo anche come, dice poi anche il dizionario Treccani, tra l'altro come rendere nuovo un qualcosa oppure mutare uno stato di cose che sono già fatte. Quindi speriamo che magari stasera davanti a un mojito o davanti a una birra riusciate anche eventualmente a ragionare su un diverso significato della parola innovazione perché secondo noi anche quella parola lì, declinata in quel modo, può aiutare la società a crescere, come state cercando di in qualche modo aiutarla voi a fare avanzare. Per affrontare il viaggio naturalmente di solito ci sono un po' di elementi che uno deve avere in testa. Intanto uno magari legge una rivista, si fa incuriosire da un luogo a meno che non ha mai frequentato, si lascia ispirare magari dall'esperienza di qualcun altro e decide di affrontare questo viaggio per andare in questo nuovo luogo. In questo caso chi ci ha ispirato questo viaggio per andare a prendere questo carrello è il Sorriso di Giada, un'associazione Ollus che poi dopo vi presentiamo, ma naturalmente visto che stiamo parlando di una barca a vela, questa barca a vela che intraprende questo viaggio deve avere anche qualcuno che la guida insomma. in questo caso la guida della nave è stato il consiglio di zona socio appunto di Ravenna che però naturalmente non poteva, doveva avere anche un po' di conoscenze, doveva essere accompagnato da una bussola e da una direzione che in questo caso è stato rappresentato dalla mission e dai valori che la nostra cooperativa cerca di esprimere sul territorio da diversi anni. In realtà Coppa Alleanza è nata da 30 mesi quindi siamo un po' come il parmigiano reggiano, siamo stagionati giusti, però insomma siamo quasi una start-upona diciamo così, però insomma abbiamo mission e valori che provengono dalle cooperative che hanno dato vita alla nostra. Dopodiché, visto che stiamo sempre parlando di barca a vela, per raggiungere una destinazione dobbiamo anche avere il vento a favore e in questo caso il nostro vento a favore è stato il momento giusto per partire con questa piccola innovazione di cui vi raccontiamo oggi. Dicevo l'associazione di storico di Giada che è un'associazione di Ravenna che è nata nel 2016 grazie all'impegno dei genitori di Giada che hanno pensato bene di iniziare a sensibilizzare la cittadinanza di Ravenna su come potessero essere inserite all'interno della testa di chi vive nel Ravennate anche delle pratiche che consentissero a bambini come Giada insomma di poter usufruire dei servizi e sviluppare la propria cittadinanza, proprio essere cittadino. L'associazione storico di Giada all'inizio del 2017 ha avuto un incontro con il consiglio di zona soci di Ravenna e ha fatto una richiesta che era appunto quella di provare a interessarci insomma per l'acquisto di queste particolari carrelli che potessero consentire a Giada di poter fare la spesa tutti insieme. Voi immaginate una famiglia come quella di Giada a fare la spesa, quanto ci mette una famiglia che ha una persona in famiglia scusate la ripetizione con dei problemi motori o di disabilità a poter fare un'operazione semplice come quella di fare la spesa. Pensare di uscire di casa con Giada significa doversi muovere in più di uno, in più di due insomma, perché una persona deve accompagnare Giada a fare in giro per le corsie del supermercato mentre qualcun altro deve portare il carrello della spesa. Quindi voi pensate anche al lavoro e alla perdita di tempo che può esserci dietro a una semplice operazione come quella della spesa quotidiana. Quindi questo caro linscarte che dopo vi facciamo vedere in foto è un carrello particolare che aiuta una mamma o un papà con un bambino, un figlio disabile a poter usufruire di questo servizio recandoci sul supermercato come farebbe ciascuno di noi che ha magari un figlio che ha un figlio insomma. Dottoramente dicevo per poter acquistare questi carrelli siccome c'è un impegno economico anche importante è intervenuta la zona soci di Ravenna che faccio presentare direttamente dalla viva voce del presidente Matteo Ghetti. Grazie Maurizio. Ciao a tutti, io non sono un freelance, state creando una bella comunità, siete bello. La zona soci di Ravenna è un consiglio composto da soci volontari di Coppa Alleranza 3.0 che sono eletti in maniera periodica, quindi siamo tutti volontari e noi siamo diciamo lo strumento con cui la cooperativa e in realtà i soci della cooperativa portano avanti istante che sono guidate dallo statuto etico, quindi la slide di Maurizio prima era veramente sul punto. Infatti noi con questo evento, questa manifestazione del carrello di Giada abbiamo voluto dare che cosa? Abbiamo voluto ridare a queste madri, a queste persone un atto diciamo normale come quello di fare la spesa insieme alla propria figlia perché chiaramente che ha una carrozzina o lascia la carrozzina e prende il carrello oppure non va a fare la spesa o sono in due. In questo caso qui si potrà tranquillamente avere un atto normalissimo. Non sono gli unici, chiaramente abbiamo portato avanti manifestazioni verso progetti per l'ambiente, per il consumerismo, quindi anche l'alimentazione e le patologie in senso lato. Io vi ringrazio e passo la parola a Maurizio. Niente, dicevo quindi il consiglio di zona soci presentato da Matteo ha fatto questa domanda alla cooperativa, cioè dice cara Coppa Alleanza, cara struttura, visto che siamo noi a doverti anche indicare qual è la direzione da prendere, visto che siamo i rappresentanti dei soci sul territorio, ti chiediamo di prendere in considerazione l'ipotesi di acquisto di questi due carrelli. I carrelli ripeto che sono molto costosi e sono fatti solamente in America. Pensate che Coppa Alleanza è la prima realtà in Italia ad essersi dotata di questi strumenti, forse se non ho capito male i secondi in Europa, quindi non sono ancora presidi che sono diffusi sul territorio nazionale. Noi speriamo di aver creato una moda e di poterli distribuire anche negli altri nostri punti vendita, naturalmente collegandoci alle realtà del territorio. Però ovviamente quando questa richiesta è arrivata sul tavolo della direzione commerciale che poi si è incaricata anche di acquistare direttamente questi carrelli, naturalmente non è arrivata senza un pensiero dietro. Quando facciamo un qualche cosa come Coppa Alleanza, poi siamo molto lenti perché siamo molto grandi e quindi ogni volta prendere una decisione significa perdere tanto tempo. E dicevo quindi quando queste richieste arrivate è ovvio che la zona soci ha sfogliato il nostro, va dei me, il manuale della cooperativa che si chiama Statuto, cioè dove sono contenuti la mission e i valori della cooperativa e ha capito che quella innovazione poteva essere fatta e rappresentava anche proprio un pezzo del percorso che Coppa Alleanza propone tutti i giorni, cioè realizzare la strategia della sostenibilità per contribuire a migliorare gli ambienti fisici ed umani in cui la cooperativa opera e contribuire al benessere, allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori in cui la cooperativa opera. Perché di cultura si tratta, anche la cultura della diversità e l'accoglienza o l'inclusione passano anche attraverso queste semplici operazioni. Il momento giusto di partire è stato rappresentato invece dai lavori di ristrutturazione che hanno interessato nel nostro punto vendita principale di Ravenna che è appunto inserito dentro al centro commerciale ESP che il 2 dicembre dopo quattro mesi di ristrutturazione ha preso, ha riaperto con un'insegna nuova che era appunto quella di Extra Cop, che è un formato che Coppa Alleanza si è inventata ed è presente sia a Ravenna che a Bologna che a Modena. L'altro particolare momento giusto di partire è anche grazie al fatto che in questi mesi, in questi anni si parla molto di agenda ONU 2030 e di obiettivi per lo sviluppo sostenibile, che sono argomenti che la cooperativa ha deciso anche di naturalmente prendere in considerazione iniziando a discutere un piano poliennale della sostenibilità che dovrà essere redatto nei prossimi mesi. Cambio microfono. E questo naturalmente piano di sostenibilità è pensato a partire dalle convergenze, dalla permeabilità tra il quadro strategico della cooperativa e le priorità definite dall'agenda ONU 2030. Priorità che sono 17 come ben sapete e tra le quali ci sono anche priorità che sono molto vicine a quelle contenute all'interno del nostro statuto e tra queste ad esempio c'è, ce ne sono alcune che vedremo dopo, questo impegno di innovazione responsabile naturalmente non può essere preso da solo, quindi se siamo qui e parliamo di sostenibilità è anche per dirvi che i nostri partner siete anche voi, sono le persone, sono gli stakeholder che fanno parte ad esempio della comunità o la pubblica amministrazione, i nostri fornitori, i sindacati, i consumatori, tutto il movimento cooperativo, i lavoratori, il sistema Coop e naturalmente i nostri soci che costituiscono la nostra proprietà. Questo dialogo che abbiamo aperto con queste persone, con questi stakeholder darà vita come dicevo a luglio a questo piano polienale per la sostenibilità che presenteremo prossimamente ma credo che aiuterà visto che siamo una cooperativa che crea anche un certo impatto sul territorio che possa anche consentire chissà anche ai freelance di pensare o di immaginarsi delle future collaborazioni. I nostri ambiti di intervento però è ovvio che mi direi che i 17 obiettivi dell'ONU sono molti e non tutti interessano a una cooperativa di consumo come la nostra però ce ne sono molti che possiamo sposare e che abbiamo suddiviso in tre diciamo macro aree. tra queste l'equa distribuzione delle risorse e la generazione di opportunità contengono l'obiettivo 10 che è ridurre appunto le disuguaglianze che è quello su cui diciamo ci siamo un po' concentrati riflettendo sull'acquisto dei Carolin's Card. In particolare all'interno di questo obiettivo c'è un target che si chiama che è il 10.2 che dice che entro il 2030 bisogna potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro. Ora la domanda è può un carrello cambiare le sorti o come dire migliorare la sostenibilità che l'ONU ci chiede di adottare, il target che l'ONU ci chiede di adottare. Non sappiamo la risposta, sappiamo solamente che quel carrello, e adesso vi facciamo vedere un video, ha contribuito a cambiare le vite di alcune famiglie che hanno questo particolare problema e ne siamo particolarmente orgogliosi. Vi lascio con un'intervista del momento inaugurale di questi due carrelli di cui abbiamo dotato il nostro punto vendita che è avvenuto nel mese di marzo e vi lasciamo in compagnia di Renzo Savini che è il collega che si occupa specificamente della zona soci di Ravenna e della Bassa Romagna, e Faenza e anche dell'assessore Uidad Baccali del comune di Ravenna che era presente all'inaugurazione. Prima realtà ad averlo fatto nell'ambito della grande distribuzione, Extra Coop di Ravenna si è dotata di carrelli speciali pensati per bambini speciali. Un'inaugurazione che rappresenta un punto di forza e una grande attenzione al sociale. Come nasce? Nasce da un rapporto che la zona soci di Coppa Alleanza 3.0 ha instaurato con un'associazione, una onlus di Ravenna che si chiama Il Sorriso di Giada, che si occupa appunto di interventi sui problemi dell'infanzia per bambini speciali. Abbiamo detto che in occasione della ristrutturazione dell'ESP, che è diventato Extra Coop ESP, abbiamo valutato la proposta che ci veniva da questa associazione Il Sorriso di Giada di un carrello che veniva prodotto negli Stati Uniti. Abbiamo valutato l'acquisto di questi carrelli che sono arrivati direttamente dagli Stati Uniti e abbiamo fatto l'investimento in occasione appunto dell'inaugurazione dell'Extra Coop ESP. Un'iniziativa che parte dalla grande distribuzione e che va ad integrare quello che già il Comune sta facendo nel campo della disabilità. Sì, va appunto a integrarsi come hai detto bene insieme al lavoro dell'istituzione e a quello dell'associazionismo perché di fatto è una proposta che nasce dall'associazione Il Sorriso di Giada e che ha trovato accoglienza dentro a Extra Coop. E ci racconta anche di come gli spazi pubblici possono diventare spazi sempre più inclusivi, inclusivi davvero perché questo modello di carrello permette alle famiglie con bambini disabili di poter coniugare il momento della spesa e anche la mobilità. Vi lasciamo con questo aforisma di Antoine de Saint-Exupery che dice la perfezione è raggiunta non quando non c'è più nulla da aggiungere ma quando non c'è più nulla da togliere. Se c'è una cosa che non vogliamo sicuramente togliere dal nostro punto vendita ESP di Ravenna sono proprio questi carrelli che speriamo diano ancora un contributo per l'innovazione sociale di questo territorio. Grazie. 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 Sono rimasto nei tempi. Grazie mille. Ciao.